ok qui ovviamente è allineato top left voi potete allinearlo dove volete l'ho allineato a top left per farvelo vedere ok anche qui potete regolarvi la trasparenza io al momento lasciato tutto nero poi qui inizia il conchi qui chiama il python e queste sono tutte le istruzioni allora queste sono le istruzioni per l'ingestazione che vedete world meteorological organization alert e la leggenda e il trattino e la linea tratteggiata poi queste sono le istruzioni per la regione io l'ho messo in questo ordine se voi le volete in ordine diverso potete spostarle come volete non cambia nulla allora la prima riga fa riferimento alla intestazione della nella parte cioè in questo caso della regione quindi regionale in arancione poi prosegue riga 2 riga 3 riga 4 qui la riga 5 la riga 6 vengono invertite perché io voglio mettere prima il prima una cosa e poi un'altra e poi continua con la ria 7 8 9 anche qui la 10 la 11 vengono invertite quindi se voi volete un altro questo ovviamente questo questo codice qui fa riferimento a due region se voi ne volete quattro non fate altro che fare coppia incolla e continuare con il numero di righe lo stesso vale per country che è la testa disposizione nello stesso vale per word uguale identica disposizione e se non vedere i file che genera allora e quelli qui file generati sono questi file di testo che vedete evidenziati questi qui allora andiamo a verne una volta tvn alers è quello che genera i dati per gli alers mondiali come vedete un blocco è formato da 18 dati e i prossimi 18 eccoli qui quindi cosa vediamo in questi 18 dati vediamo l'id che non ci interessa più intanto questo qui sarebbe l'evento questa qui tratteggiata la linea tratteggiata è la seconda linea dell'evento che in questo caso non è presente si messo il trattino poi questa staff and dell'evento e queste mi sono le quattro righe dell'area description che in questo caso ne vediamo solo due poi c'è nid che non ci interessa che non ci interessa e poi questi qui sono i su che praticamente vedete s uc non ci interessa effetti non ci interessa e questi sono i dati che scrive per il world per il country è la stessa cosa blocco di 18 i dati sono uguali cosa cambia cambia solo che nel country prende gli alers del vostro paese in questo caso italy indipendentemente dalla regione per la region è la stessa cosa blocco di 18 i dati sono presi alla stessa maniera e cosa cambia che in questo caso prende solo quelli del vostro paese e della vostra regione e questi sono i dati grezzi che vengono salvati sui file trattino punto vm o alers e eccetera eccetera poi questi vengono elaborati dal python questi sono come vedete le istruzioni conchi scritte per l'intestazione che vedete sulla sinistra nel conchi poi questi qui sono andiamo in ordine di come dimostra il conchi i dati dal region queste qui sono le istruzioni conchi per il region come vedete c'è l'intestazione region l'evento landline la start line e l'area description questi sono i suq e poi il programma ricomincia questi ovviamente sono come vedete sono sono tre sono tre perché nel file era stato settato che fossero tre adesso ve lo mostro erano tre perché vedete qui 3 del world 1 del country e region 1 ecco questo file qui è stato settato per 3 della region poi cosa mostra il conti mostra il country lo stesso altri 3 del country è la stessa disposizione stesse istruzioni e poi c'è quella per il world lo stesso altri 3 per il world il conti ne mostra due ovviamente perché perché io ho scritto per il conti quello normale questo qui come vedete ho scritto solo due istruzioni per ogni per ogni regione in pratica se noi scordiamo la prima linea che è standard per tutti ci sono due istruzioni queste qui se le contate sono una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci sono cinque istruzioni eccole qui cinque per ogni blocchino quindi cinque e cinque sono due blocchi nel region infatti ne mostra due di eventi poi se voi volete utilizzare questo comunque non da solo ma integrato con il il compito della della guancola p come vedete qui a video adesso c'è il compito normale che dimostra i dati del weather alerts dell'open weather map se voi volete utilizzare questi qui i nuovi dovete modificare i due file del conchi quali fai modificate allora intanto dovete copiare il questo file qui vedete che è iniziato copiate all'interno della guancola p quindi nuova struttura non vedete dove lo copiate all'interno sempre della vostra conti in questo caso io seleziono questa anche se era un nome diverso quindi all'interno della vostra conti weather open weather map guancola p e qui dentro copiate questo file qui evidenziato il www.wmoalerts.py che vi genererà tutti gli altri file di testo sempre qui all'interno poi all'interno della vostra cartella guancola p dovrete modificare il vostro file guancola p quindi se voi lo aprite questo file qui andate nella parte degli alerts che è in fondo questa qui è la mu e la lasciate con me e questa qui è la parte degli alerts eccola qui qui prende gli alerts in questo caso questa è la sezione che riguarda open weather map voi la cancellate e salvate il file poi andate nel file di open weather map guancola p questo qui che vedete evidenziato dall'altra volta lo aprite vedete qui c'è la section for gli alerts allora voi prendete queste righe qui le cancellate e ci copiate queste qui del conchi alerts wmo le aprite eccole qui copiate queste qui ovviamente dovrete modificare il percorso cioè questo qui perché adesso l'ho utilizzato insieme alla wankola p ovviamente dovrete modificare anche il conti i conti wankola p perché ovviamente tutta questa lista qui che vedete non non viene tutto quello che viene mostrato adesso nel conti in alto a sinistra non può essere visualizzato nel piccolo spazio degli alert del del wankola p quindi decidete cosa mostrare o la regione o country o world pure potete eliminare come l'altra volta la immagine qui l'immagine blu delle tre lune così avete più spazio da raggiungere gli alert questo è quanto e quindi anche per oggi abbiamo finito e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao ciao